Da due o tre giorni fa io ho detto che mi aspettava che lui gioca, in questo momento ho ancora dubbi, non ho avuto evoluzione nei nostri dubbi. Barcellona sembra con tante assenze, quello che si aspetta anche Mourinho, qualche giocatore è convinto che invece ci sarà, ad esempio anche Messi di cui si parla. Il dottore del Barcellona è un mago, è un mago, Pruna conosco dai miei tempi di qua, è un mago, secondo me saranno tutti disponibili per cercare. Mandiamo una cartolina, un messaggio ai Brejmovic? No, nessuno, io l'abbraccio di sempre, prima della partita e dopo la partita, niente più.